Intanto si presenti, chi è? Io sono un collega. Mi manda Sua Eccellenza al Bisco. Si chiama Donato Ulivieri. Nel passato ha avuto tanti cantanti famosi con sé, ma adesso è mezzo fallito. Domani la Messa la dice... DONATO! Un piacere Don Donato. Cesira, passerò ieri per lei in letto ogni mattina. Ottimo. Ma te metterò! Che devo fare con questo? Gli amici di Campania? Sono i cuccini. Ah, sono parenti. Gli amici.